proviamo a far muovere il rifiuto allora, facciamo dal cambio a costume facciamo qualche piccola modifica allora intanto il rifiuto dovrà partire sempre dalla parte alta e dovrà muoversi lungo il bordo alto quindi dovremo lavorare sulla posizione X mentre la posizione Y iniziale sarà sempre quella e dovrà scendere verso il basso dovrà cambiare la posizione X vi ricordo che lo stage va da un valore che va da meno 240 a più 240 naturalmente non lo facciamo partire direttamente dal bordo anche perché capirete poi dopo perché non farlo partire dal bordo aggiungiamo un'altra variabile quindi andiamo in variabile e creiamo una nuova variabile che si chiamerà posizione rifiuto ok usiamo porta posizione rifiuto lo mettiamo qui nella sequenza del cambio a costume posizione rifiuto usiamo ancora il nostro numero a caso e lo impostiamo tra meno 210 e 210 in questo modo al posto di questo 0 dovremo andare a mettere la variabile posizione rifiuto in modo tale che questa posizione che viene calcolata viene passata qui dentro ok lasciamo intanto il 176 perché poi voglio far vedere un errore che può succedere a questo punto però noi non andiamo verso il bidone ok perché se il rifiuto ad esempio parte dall'angolino se il rifiuto partisse da questo angolino diciamo bidone lui andrebbe sempre verso il bidone in questo modo invece noi lo facciamo partire in una posizione casuale dopodiché scende dritto comunque in ogni caso quindi andiamo a togliere questo blocco e ne aggiungiamo un altro che è scivola in 1 secondi x y lo riportiamo sempre a 3 la posizione iniziale di x ok sarà sempre quella ok per andare a scendere dritto useremo quindi ancora variabile posizione rifiuto e la posizione x sarà sempre quella mentre la posizione y gli diciamo meno 180 perché deve partire da un valore positivo o alto ok e deve scendere verso un valore negativo dell'asse x e y scusate ok a questo punto proviamo a far partire il rifiuto ok e vedete che scende ok qui c'è un problema che se il rifiuto scende dritto e il bidone non lo prende naturalmente il gioco si blocca perché il rifiuto rimane fermo qui non riparte anche perché non stiamo giocando con con i coloni eventuale step successivo che si potrebbe implementare quindi dobbiamo lavorare sul fatto che se il bidone tocca il scusate se il rifiuto tocca il bordo deve non so dire ad esempio che è sbagliato perché il rifiuto cade fuori dal nostro bidone e deve ripartire dall'alto allora per fare questo programmiamo il nostro rifiuto in questo modo situazioni bandierina verde prendiamo dal controllo il blocco per sempre e come abbiamo fatto per il bidone dobbiamo fare se il rifiuto tocca il bordo allora prendiamo un se allora mettiamo dentro per sempre e da sensori prenderemo sta toccando in questo caso gli diremo il bordo ok bene cosa succede se tocca il bordo come prima gli diremo invia a tutti cambia costume quindi verrà richiamata questa sequenza e a sto punto gli diciamo anche cambia sbagliato di 1 lo consideriamo un errore andiamo a vedere cosa succede attenzione vedete che il rifiuto continua non scende mai perché noi abbiamo fatto partire il rifiuto da 176 che è sostanzialmente data la dimensione del rifiuto o lo facciamo più piccolo o dobbiamo abbassare leggermente la posizione iniziale lasciamo stare la grandezza supponiamo che ci vada bene così gli andiamo a cambiare andiamo a cambiare il valore in y non più 176 ma 140 proviamo a vedere ed ecco qui che il nostro il nostro rifiuto si si sposta si sposta lungo il lungo l'asse l'asse x dobbiamo aggiungere chiaramente anche il movimento del del bidone per fare questo cosa facciamo aggiungiamo al bidone i comandi di spostamento quindi semplicemente andiamo in situazioni prendiamo quando si preme il tasto spazio e scegliamo freccia destra ok e da movimento scegliamo cambia x di 10 e duplichiamo il tutto e gli diciamo cambia sempre x di meno 10 ok adesso se proviamo a premere le frecce ah scusate freccia sinistra in questo modo ok la posizione andrà vedete a spostarsi il bidone da una parte e dall'altra naturalmente questo ci serve per far spostare il bidone anche qui scegliete voi l'eventuale velocità del bidone ok perché se la velocità non bastasse ok vedete che non faccio in tempo ad prendere il rifiuto possiamo aumentare la velocità ad esempio diciamo 50 e meno 50 ok in questo modo il bidone si muove sempre a scatti ma si muove più velocemente ok e in questo modo magari possiamo vediamo così adesso ho sbagliato ok comunque si muove più velocemente ecco fatto il rifiuto si muove si sposta sull'asse X allo stesso modo il nostro bidone si sposta sull'asse sull'asse X questa è una piccola variante di un gioco che avevo già realizzato a suo tempo di raccolta differenziata è molto semplificato rispetto al gioco che avevo realizzato a suo tempo anche quello realizzato in più versioni lo trovate sul mio spazio su scratch ho realizzato anche una galleria raccolta differenziata ci sono cinque progetti ci sono i due progetti base e quello modificato diciamo con la possibilità di spostare i i bidone e i rifiuti questi invece sono è un po' più complesso ve lo faccio vedere velocissimamente vediamo se si carica i bidoni scendono qua in realtà il gioco è un po' più particolare perché vedete che scendono i bidoni dall'alto e poi scende il rifiuto e il rifiuto va trascinato nel bidone nel bidone corretto tipo vediamo ok e anche qui abbiamo vedete i qui abbiamo il tempo abbiamo più tipologie di rifiuto anche qui risposta giusta e sbagliata e la scelta che praticamente è il rifiuto che viene scelto vi dicevo è molto più complicato perché se andiamo a vedere l'interno vedrete che ha molti più blocchi il rifiuto può essere spostato sia per trascinamento ok in questo modo ma anche con le freccette posso spostare il rifiuto vedete che qui qui ho utilizzato anche la creazione di miei blocchi in modo tale da definire per semplificare tra virgolette o meglio semplificare la lettura qui è un po' più complicato perché c'è la scelta del tipo di rifiuto dove vi faccio vedere non è più ogni bidone è separato ogni rifiuto è separato vedete e quindi c'è la scelta del rifiuto in base alla variabile e allo stesso modo per ogni bidone è ripetuto riduplicato vedete un po' tutto quindi non è complicatissimo come 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 gioco si rifà un po' quello che avete visto prima sono i blocchi un po' ripetuti nei vari nei vari tipi di rifiuto nei vari tipi di bidone quindi è un po' più lungo da gestire ma non ma non impossibile ci sono tre versioni una un po' più complicata dell'altra perché ci sono funzionalità diverse scritte nelle varie nei vari anni semplificati cercando di semplificarlo di renderlo sempre più più semplice da utilizzare in classe ecco detto questo insomma spero che il gioco vi piaccia e buon divertimento con la vostra classe grazie grazie grazie